Oh, intervallo 8 reparto ragazzi siamo di nuovo su F.I.A.R. Così per concludere siamo tornati quello che avevamo lasciato tra bug tecnici errori del gioco bestemmie trasferimenti di Elgato Tra l'altro adesso ci senti? Si, questa è la grossa novità di oggi Intanto io devo sempre ricordarmi che quando gioco su Xbox la X sono i suoi figli Allora Giulio ti dirò complice anche che la gente magari è un po' che non lo vede Complice il fatto che io non ho seguito parte della serie Vuoi sapere la trama? Non te la so dire Non per cattiveria ma perché è legata agli altri due Bravo, è legata agli altri due Quindi cioè non avendo io giocato agli altri due Però almeno che cosa stai facendo adesso ce l'hai bene Allora poi ti ricordo anche questo è il mio primo video con l'audio Quindi abbi pazienza che devo capire No 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 ma nessuno ti dice niente Hai giocato leggendo la mimica facciale Bravo Più che altro c'erano quelle brave persone dei nostri utenti Che mi dicevano sempre Guarda che con l'audio tu sentiresti Mi dicevo grazie siete delle brave persone ma io sono senza audio Quindi la gente non capiva No la cosa bella di questo gioco è che a volte non capisci la strada E questo può essere Penso che tu debba andare in quella direzione Sì ma in realtà ci sono tante Ecco Puoi fare tanti giri Ma chi è il tuo nemico? Il mio nemico non ha divisa No scherziamo In questo caso è tutto un'ossera complicata Perché? Perché ne io ne lei Caro architetto No perché praticamente questo gioco ha due anime tra virgolette L'anima diciamo horror e l'anima action se vogliamo chiamarla così Questa è l'anima horror come potresti intuire Questa è la stanza che si vede all'inizio del caricamento L'hai vista anche te adesso Sei tu e tuo fratello Tu hai ammazzato tuo fratello per farti un altro riassunto della trama Ah Così Perché Tu fratello è il fantasma tra virgolette che ti perseguita Magari hai visto dei filmati e li hai notati Sì È lui e tuo fratello Ma è questione di Nutella? Cioè nel senso mi ha rubato la Nutella e noi l'abbiamo ucciso? No perché ha dei problemi ben più seri Come puoi notare da quello che sta succedendo qui O dai disegni sul muro o da cose del genere Sì Io sto guardando perché c'è Volevo vedere se farsi vedere qualcosa Non perché mi sono addormentato Ecco Ah gli ha fatto la puntura Sì beh quello lì del dottore che ci teneva in gamba In gamba in stanza Non so perché Probabilmente per i nostri poteri psichici Ma guarda te Bene ma Non benissimo Ecco poi succedono queste cose Dobbiamo distruggere i terribili ricordi di questo posto E di lui Benissimo Quindi mi sa che devi seguirlo Così Non dovevo andare avanti Almeno questo l'abbiamo capito E questi? Non è mai successo fino adesso E forse posso dirti Sono contento di avere l'audio in questo momento Trova e distruggere l'oggetto legato al tuo passaggio per eliminare i ricordi Qui che ci ha spinto fino all'inizio Sì Ci furia tanto da arrivarci Quindi ecco È un fallimento Questo vuol dire che è il nostro gioco Dottor Wade è quello del ricordo di prima Dottor Wade non riesce a comunicare con lui Il secondo è più forte Ma tu sei il primo o il secondo? Penso il secondo Ah cazzo Quindi sei più forte Mi ha fatto un checkpoint Te lo dico Eh sta stanza non ce l'avamo arrivati Non ci siamo andati Qui ha giocato con noi Non eravamo altro se non degli esperimenti per lui Ok siamo morti come dico gli uni prima Se vedi una roba a ro Eccola là Concentra Tu sei più forte di questo Incredibile però Però sei ancora nel sogno All right? Sì no sono nella parte Sì Cioè poi gli locchiamo il sogno Per farti capire Il senso Capito ma Guarda là in fondo Il secondo è il suo preferito Ma cosa ne sarà di lui? Certo perché non serve un cazzo Non so per il legame mentale Va bene Non chiedermi a cosa serve il legame mentale Perché non lo sai o perché? No vai a solo punti in più Cioè a parte Vai a destra Ci nasce un corridoio a destra Sì sì ho tutto qua Però non c'è un cazzo Ok Oh c'è un cazzo Qui dobbiamo seguire la luce E stare attenti ai cose schifosi Qui, si è aperta, si è aperta Bravo Giulio Ma si è aperta la porta lì Porca droide Si è aperta la porta lì Si è venuto da lì Che è di questo? Ma Non ce l'avevi dietro, porcaccia puttana Comunque secondo me è ancora un giro Che qui l'ho erroneamente pensato Questa è la voce di tuo fratello, per inciso Si, si, lo so Questa è la voce di tuo fratello, per inciso Perché pensavo che dando spalle alla porta dove dovevo entrare non venisse fuori da lì Invece sto cazzo Però ti ridà l'energia, ti faccio una cosa Grazie a Dio Entra nel regno di Arlan Wade Arlan Wade? Si, anche Parole a caso, eh Cosa succederà se lo troverà? No ma è pazzesco comunque Cioè nel senso Là in fondo mi sa Andare a vedere Un cazzo Una minchia Quindi mi devo andare a tornare da Tra l'altro Porca puttana troia Non mi ricordo come si fa a correre Bravo, bravo Fanculo Come è un municione di soli Non mi provai a scappare da me Ma chi è che parla? È il dottor Wade, immagino Ah Ah, sei nella foresta così Non si capisce un cazzo Sistemare il passato al posto giusto Ecco È ciò che ci blocca dal raggiungere madre Ecco Ora se mi rilassi Madre è madre quella del Madre Madre Armi Dai va Ma vaffanculo Ah già così Chi inizia bene Vabbè Questo giro direi che Magari sopravvivo Mi sono esaurite Ma c***o Danneggio Danneggio Vai Vai lì 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 Va Che avevo finito i gol Non posso fare niente Nel caso Il re è tornato Cioè È assaccagata l'ultima missione Eh sì Ma te l'ho detto che secondo me Era più Attenzione Video Video Questo che è Il dottore Sì Alla Sareste dovuti essere la mia stupe Ma siete tutti mostri Conmovente No Bene Hai sbloccato Vettel Sì che è suo fratello Finalmente i fratelli potranno riunirsi alla propria madre Madre La famiglia sopra Eh non ho fatto il tempo Il bravo ci sarà un Vai insomma C'è un plot twist Moreremo tutti Tipo Io sono tua madre Tu sei mio padre Il passato Non c'è più Di tralcio Questo sono io Questo è suo Rappello Sta succedendo Andiamo da lei È una cosa Che dobbiamo vedere Ti consiglio ancora di considerare tutte le opzioni Fratello Possiamo diventare inarrestabili Dobbiamo solo consumare il corpo Unisciti a me Cosa stai facendo La famiglia non ha mai significato nulla per te Conmovrai a seguire gli ordini di quella donna O rimarrai fedele al tuo sangue Cosa sta succedendo? Ma ho il timore che tu debba ucciderlo così Perché c'erano quelli Cioè perché c'erano tutti Quelli erano le cose finali della missione Ma tu hai fatto una tua scelta Un cazzo Non ho fatto un cazzo Ah proprio così Era un video Con cui ci alletavano Sti cazzo Ma vi fai tutte le cose che venivamo scritte adesso Erano tutti i bonus che prendevi nei livelli No? Once again Probabilmente però Allora tu quando finisci il gioco normale diciamo Sblocchi la possibilità di giocare col fratello Io sono al livello più alto con lui E quindi ho vinto Fui se è stato un livello più alto con lui Magari cambiava Capito? Ho visto partorienti migliori comunque Non so te Quinti Le cose sembrano normali Non sono più sicura di sapere bene cosa significa Devo solo credere che hai completato la tua missione Sapevo che era difficile Ma i superstiti di quest'apocalisse ti devono la vita Io te la devo Mi sembrava ma super cazzo Se proprio te la devo dire tu Bene Ah Bellissimo eh Ah Questo finale Denso di significato Ti è piaciuto? Soprattutto non ci ho capito un cazzo Rane anch'io però Vabbè Giulio non ti lascio andare a casa Adesso registriamo altro Lo so Piuttosto un porno No che cazzo Ci mancherebbe No ti dicevo Io non posso fare commenti perché non ci ho giocato No comunque ti dicevo Tutte le cose che si leggero Cioè point man eri tu E fettele l'altro Dato che io ho finito il gioco solo con point man Avevo tutti quante le point man al massimo Tutte le cose Quindi ha vinto lui Probabilmente se fossi stata al contrario Tu hai detto devi un altro finale Ma la sta musica Vabbè dai Di qualcosa A me è piaciuto È un bel gioco Cioè divertente da giocare Fatto bene Come Cioè E ovviamente è un po' un misto tra La questione horror e la questione Normale Solo che l'horror francamente ha un Cioè Uno sviluppo minore Perché comunque Alla fine è un FPS Quindi ti devo far sparare la gente E c'è Lunga parte in cui spara la gente Tra robot e micro Robo Cazzi e mazzi Dei pezzi anche belli difficili Ma longevità com'è stato? Ma è buono Più che altro perché ci sono dei pezzi difficili Cioè effettivamente tipo il Nell'episodio 7 diciamo Minchia il boss finale è uno sbattimento Quando ti arrivano i due mostroni blu Minchia ci devi stare per battere Ma io intanto ti faccio A parte che è un gioco per computer Quindi sarebbe curioso vedere magari con mouse Sicuramente più facile Però ecco Le domande che ti faccio va bene Questo l'abbiamo detto Graficamente stiamo parlando di un gioco Quello della scorsa generazione Quindi sarebbe curioso Accettabile Andare a vedere come è su computer Perché sai che qui sono un po' castrate Gli ultimi giochi Per la scorsa generazione Erano giochi scastrati Fermo restando che avere un computer Sicuramente già adesso Le console sono castrate Perché vi ricordo che va bene giocare a 1080p Che è l'uscita in HDMI delle console Però se si tratta di 2K e 4K Queste console fanno abbastanza che care 3FPS Detto questo Graficamente insomma va bene La storia La storia sinceramente Allora ho giocato tutto il gioco in muto E No no ma non c'è bisogno E a parte quello non so Non so la trama originale degli altri due Quindi Cioè è come Che ne so La trama di Witcher 3 Comunque è cominciata a un certo punto Quindi è la stessa cosa Sì per carità Però avevano cercato di renderla Sì va bene La storia importava di più Però non te lo dire C'hai comunque dei vuoti originali Che rimangono vuoti Sicuramente non aiutano Esatto Però l'hai fatto bene E' anche abbastanza vario Perché Con la scusa dei Dei mostri Eccetera I nemici variano Ci sono quel cazzo di Pantere Nera Di libro Sono un'ottura di cazzo atomica Tra le tante No le Pantere Nera sono la parte horror Sì Com'è bilanciata bene la parte horror Allora La parte horror è più breve Ti fa fare delle parti Soprattutto E' abbastanza angosciante Ce l'ha fatta bene Però è E' la parte minore A parte l'ultimo episodio L'ultimo episodio che hai visto È solo horror Tranne quei tre soldati Normalmente invece Sono solo soldati E poi a un certo punto Entri Vedi delle cose Iniziano a succedere Delle cose strane E capisci che è cambiata Ma un vuoto Lo so che per te è difficile Ma mi è piaciuto Cioè ti ripeto È un gioco che Cioè Medio Che divertire No medio alto Cioè ovvio Non è un capolavoro Però è fatto bene Divertente Cioè è divertente da giocare La parte di sparare È fatta bene Ho capito Merito Quindi vabbè Storia così L'abbiamo detto Componente grafica L'abbiamo detta Musica Comparto tecnico Fisica Tutto a posto Bug Come se piovessero No no Bug no ma Cioè Non succedi Cioè Vai dritto e spari Ok No però Oggetti svolazzanti No quello non ho visto Niente di particolare Pop up Tearing Roba del genere Niente di particolare Quindi insomma Anche Poi tra l'altro Per la varietà Ci sono appunto Anche le parti sui robottoni Che sono belle Perché sono divertenti Per quanto sia Delle cagate Tra virgolette Però sono belle E tra l'altro Non so se c'è una componente online Che tu sappia Non lo so sinceramente Non lo so Comunque staremo a vedere Puoi fare tanti Perché mi pare Che puoi cooperare Però non mi ricordo Qua o me Vabbè Magari Escrivo condiviso Guarda Basta prendere Se non è Il coso Che adesso Non ho qui No Non ce l'ho Ah la scatola Cazzo L'ho messo La scatola Ah ok Vediamo un po' Demo un'occhiata Tiene Pes Che non vorrei mai C'è Uno o due giocatori Cop 2 Quindi Multiplayer online No Puoi fare la cop Quindi magari La cop Sei tu Quindi mi sa Che tu Utilizzi Probabilmente Uno dei due Fraterli Ma la donna La donna Si vede Si compare Compaiono un po' Tutti Ma è affrontare La paura Da soli Quindi direi Che Va bene Tra l'altro Motore Acceleratore grafico Di uncharted Io direi Che vuoi aggiungere Altro Del tipo Non comprate Questo gioco Compra Beh Visto il prezzo Si può anche Comprare Sì Ormai Price drop In quantità Copiosa Direi Non Accettabile Cioè accettabile Detto questo Niente ragazzi A me non resta Chiedere appuntamento Alle prossime serie Che saranno molte Eh perché C'è roba in pentola Siamo in sede Di esatto Siamo in sede Di riorganizzazione Generale Un po' Della attività Del canale Ma vedremo Che cosa porterà Fuori Questa riorganizzazione Generale Tipo giulio Con tutù Che gioca Chiappellaria Ma Lui sta sedito Quindi Io taccio Io taccio Perché un po' Ti piace Assolutamente Però vedi Tu non volevi Però alla fine L'abbiamo finito Senza neanche Troppo bestemmiare No anzi Ma perché io pensavo C'è un'altra missione Lunga Complicata Gente da sparare Casini Mostri Come piovesse Via il dente Via il dolore Abbiamo finito Questa serie Quindi ci siamo Abbiamo chiuso Tutte le serie Le open series Che non sono quelle Del tennis Però ecco Diciamo Abbiamo finito tutto Quindi possiamo Definirci soddisfatti E come al solito Abbiamo portato a termine I vari video Del canale Quindi siamo contenti Naturalmente Come al solito Vi esortiamo Non solo A fare un like Su youtube Scusa Su facebook Anche su youtube Naturalmente In quantità copiosa Seguirci su vari Twitter Tutte le supporti Che supportiamo Esatto Ma anche a scrivere Qua sotto Quelli che sono I vostri commenti Ora io non so Di solito rispondo io Non so quanto potrò Taggate Giulio Almeno queste risposte Vi darà Vi darà la sua Non chiedetemi la trama Perché Non chiedetemi la trama Perché la trama Non la sa O meglio Se la puoi inventare No vabbè Per sommi capi Lo so Però Non saprei darvi specifiche Ciao ragazzi Ciao belli Aspetta Attenzione Attenzione Finale segreto E invece un cazzo E invece un cazzo Aspetta Aspetta Vedi il secondo Adesso vedrai che Si vede qualcosa Preparati a uno spavento Luce E qualcosa che ti spaventa Vedi tipo abbandonato A quanto pare Perché speriamo Che lo facciano vedere Mentre si fa un seghiero Eh da solo Cazzo C'è anche Almeno quello Testosterone No Tac Che è questa Bucciana Quella della copertina Che è questa Che è questa Che è questa Che è questa erano i miei, erano i miei ha riuscito da lei, ha prodotto la nostra famiglia in asce mi ha mostrato ciò che deve essere fatto ha dovuto morire continuano ad entrare, non è? si, sono se fanno una domanda tra i primi dieci sono esplosi ma va bene, noi entriamo che cazzo è il dottor Manhattan tra l'altro tutti devono morire e io continuare, tu quindi in teoria ti dice gioca con Chippalippa ora, ho una domanda tu vuoi giocare con Chippalippa? no, a parte quello, guardi, nella vita può mancherarsi ma doppiare questa parte era troppo difficile? ah, perché tutto il resto è che ne sa il cazzo Giulio tagli di budget vabbè dovevano fare Batman e hanno deciso di tagliare la Warner Brothers comunque vedi ti faccio vedere vedi, personaggio Point Man vedi? in realtà può anche cambiare, credo, in qualche modo comunque beh, tosto comunque, basta alla prossima ciao Belli Grazie a tutti.